buon ciao a you benvenuti dal vostro amichevole nonno della rete in questa terza apertura dei challenge deck adesso siamo al fire jeskai vi raccomando prima di iniziare like condividete iscrivetevi al canale se non siete già iscritti commentate fatemi sapere cosa ne pensate di questo e di tutto il resto del mio canale come ho detto è la terza apertura perché ho già fatto il mono rosso e il golgari avventura e poi uscirà il flash bellissimo ma questi scatolini sono fichissimi l'ho già detto non è che mi piace molto ripetere però se c'è da dire lo si dice allora questo fire diciamo è quello la prima versione del fire che poi è stato scavalcato da la versione cavalcanti di m20 infatti questo dovrebbe portare i vari place walker mettiamo un attimo insieme ok parte con una copia un attimo sbracciare fatemi sbracciare si ok porta di meno una copia di carrot che poi sarebbe la mitica questa usciva nei buy a box di eldrain il buy a box su quelle carte promo foil anche se questo è normale che quando uno acquista un box il negoziante la regala 5 valla 5 5 a 5 abilità ognuna di un colore diverso partiamo con il mana rosso dice tutte le creature guadagnano travolgere e rapidità fino alla fine del turno con uno verde e uno in colore mettiamo un segnalino più o più uno sulla creatura bersaglio saliamo a 3 uno bianco e 2 in colore un giocatore bersaglio guadagna 5 quindi con uno blu e 3 in colore un giocatore pesca una carta e con un mana nero e 4 in colore mettiamo una creatura da un cimitero in gioco sotto il nostro controllo 3 chiarina fortissima 3 ma la possiamo scegliere una abilità o entrambi o fare tre danni a ogni creatura o le creature controlliamo guadagnano legame vitale o facciamo tre danni e in più le nostre creature guadagnano legame vitale carta veramente forte due fate desideri che interagiscono con la side 2 male 1 4 volare poi pagando 2 scartato due carte a mano la possiamo rimbalzare ce la in mano invece l'avventura e con 4 ma la stregoneria avventura possiamo scegliere una carta non creatura dalla nostra side cioè al di fuori del gioco e aggiungerla alla mano molto 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 forte due sogni sommersi dovrebbe essere quattro mano guardiamo le prime sette carte del nostro deck e aggiungerne due alla mano quindi andare a cercare ciò che ci serve la carta base del del deck il fire of invention i fuochi dell'invenzione un mano rosso trincolore noi possiamo giocare le magie solo durante il nostro turno e non più di due magie attorno però possiamo lanciare magie con costi mano convertito pari o inferiore alle nostre le nostre terre senza pagare il costo quindi per dire giochiamo 4 ma la file e poi lei ci andiamo a prendere le nostre due carte che possono servire giocare lei e giocare chiarina gratis perché quando giochiamo lei già lei già i fuochi la si conta come una magia nel turno e retrattiva con abilità però già il turno dopo potremmo fare sarcan e e time wipe per dire tutto insieme o fare fatina e andarci a prendere una carta dal deck dalla side deck side bard quindi 3 sarcan di meno press walker rosso 5 mana 5 segnali di fedeltà quando una creatura attacca a noi un press walker controlliamo infliggiamo un danno per ogni drago che controlliamo con più uno fino alla fine del turno tutti i nostri press walker diventano delle creature 44 draghi con volare e con meno 3 creiamo un drago una pedia drago 44 con volare gg 3 casmina che fa sì che le nostre creaturo press walker per essere bersagliate da magie dell'avversario dove devono pagare due in più con meno 2 creiamo un mago 2 2 peschiamo e scartiamo una carta un hugin tutte le nostre magie in colore costano due meno cosa sei bala a quattro segnali in fedeltà con più uno ci andiamo a a prendere una carta la prima carta del decco metterla in gioco coperta e trasformarla in una 2 2 se quella carta lascia il gioco invece ci va in mano le pedine non ci sono hanno fatto le pedine vabbè e poi con meno 3 distruggiamo un permanente che ha uno o più colori poi due time wipe che con due mana bianchi uno blu e due in colore secondaria ci facciamo ritornare una creatura e controlliamo in mano e quindi distruggiamo tutte le creature abbiamo montano 5 removal di massa di meno 2 luce esiliatrice 3 mana quando entra in gioco esiliamo un permanente non terra finché lui è in gioco 4 narset carta fortissima super forte ho 3 mana 2 blu in colore entra con 5 segnali di fedeltà ha solo una abilità attivata con negazione ogni l'abilità statica è quella che rende proprio forte questa carta perché ogni giocatore ogni avversario non può pescare più di una carta a turno è stoppa veramente tanti decco ecco poi con meno 2 guardiamo le prime cinque carte del nostro decco no scusate le prime 4 carte 4 carte 4 carte il nostro decco scegliere una carta non creatura e non terra e aggiungerla alla mano gli ultimi due press war che sono sei lì che l'abilità statica che quando lanciamo una magia non creatura creiamo uno servo 11 artefatto poi con meno 2 una creatura no no bersagliamo un artefatto e controlliamo e diventa una creatura un artefatto bersaglio che controlliamo fino a fine del turno io eccetto che quella quella carta è un artefatto oltre in addizione ai propri tipi perciò possiamo far diventare il nostro servo un drago creato da sarkhan poi a splash al mana splittato blu e rosso e uno in colore in totale tre mana quattro presaggi nel mare umana blu man in colore lampo quando entra il gioco facciamo profetizzare due quindi peschiamo una carta con tre mana lo possiamo sacrificare e fare profetizzare due quattro fari interpretari quando lanciamo un place walker una magia per suor che guadagniamo un punto vita carta veramente utile in questo deck perché oltre a guadagnare il punto vita ci fa fare filtro per giocare press walker infatti con ma la in colore e tappando lei aggiungiamo due ma la di colori differenti poter utilizzare quel ma la solo per giocare press walker però per dire facciamo che siamo così e vogliamo giocare no beh però ecco così e vorremmo giocare in arset tappiamo lui uno e due anzi facciamo ancora la cosa più figa abbiamo due di lei e abbiamo solo una terra colorata con questa aggiungiamo un mana blu e un mana bianco con la terra doppia aggiungiamo un mana blu e quindi giochiamo narset guadagnare un punto vita e utilizziamo la sua abilità per guadagnare ulteriori punti vita abbiamo tre terre che nel gioco tappate ci fa guadagnare un punto vita blu e bianco rosso e bianco ne abbiamo quattro tre blu e rosse cinque isole due montagne due pianure una fumaglia di vapore la shock lento che una carta abbastanza costosa per questo deck comunque ve l'ho detto per 35 euro qualsiasi challenge deck è buono la può entrare in gioco stappata pagando due punti vita altrimenti del gioco tappata isola montagna e poi i tre tempi che entrano in gioco tappati e facciamo profetizzare uno come side abbiamo un altro sarkan a caso un dovin gli artefatti istantanei stregolerie e magie del che gioca il nostro avversario costano uno in più e come noi uno fino alla fine del nostro prossimo turno preveniamo tutti i danni infritti da una fonte sia quelli che infligge sia quelli che subisce poi abbiamo un bellissimo a shock che serve soprattutto per l'abilità attivata due male a blu due male neri in questo caso due male a blu un incolore cinque segnali di fedeltà le magie e le abilità del nostro avversario non possono andare a cercare nel grimorio e con meno uno il giocatore bersaglio mette le prime quattro carte del deck nel cimitero quindi esilia ogni cimitero dell'avversario contro fuga è molto molto forte abbiamo un altro time wipe in side un solo dove in veto come counter due esili artefatti incantesimo due friggere due male non può essere neutralizzate fa cinque danni a un place walker o creatura bianco o blu due decreti che esiliano creatura place walker nero rosso in più profetizziamo uno tre peschini sete di conoscenza non mi sbaglio tre male istantaneo peschiamo tre carte quindi o scattiamo due o scattiamo un incantesimo e fino mass manipulation carta fortissima con quattro male a blu e doppio x prendiamo il controllo di x creature o place walker bersaglio onestamente forse il deck meno potente degli altri ma comunque un bellissimo deck con tante carte utili e tante carte che si utilizzeranno in tanti anche in altri formati e poi vabbè la pedia drago messarcano questa pesa eli e poi l'avventura e questo forse è tornato in più come video fatemi sapere cosa ne pensate voglio grazie mille per la visione al prossimo bella